È indubbiamente una strada che ancora in Italia non è stata abbastanza percorsa, quella della rigenerazione urbana in chiave edilizia popolare. Sarà uno dei temi del convegno che si terrà ad Arezzo in occasione dei 20 anni di Arezzo Casa, il gestore del patrimonio ERP dei comuni dell'Aretino, che ha voluto una settimana di eventi proprio per tracciare le linee del futuro dell'edilizia popolare. Tutto parte da un vero e proprio allarme lanciato dallo stesso presidente di Arezzo Casa. Sì, questo è un momento storico mai visto prima. Noi ci troviamo per la prima volta senza nessun finanziamento né regionale né statale, con i comuni che hanno tutti quanti problemi di bilancio e che quindi possono corrispondere in maniera minima e sicuramente non sufficiente per far fronte alle esigenze che abbiamo. Di fatto noi oggi viviamo solo con i nostri canoni e questo è impensabile, è impossibile. C'è bisogno di modificare lo strumento ERP, c'è bisogno di costruire dei finanziamenti strutturati e soprattutto c'è bisogno di fare una progettazione. Serve un piano casa, dopo 61 anni dalla fine del piano casa Fanfani servirebbe immediatamente, non solo nella nostra realtà ma in quella nazionale, un nuovo piano casa e servirebbero delle nuove leggi e dei nuovi provvedimenti che ci dessero la possibilità di fare il nostro lavoro al meglio. Il convegno vedrà gli interventi dei massimi esponenti di livello nazionale e internazionale sul tema e anche dell'architetto Silvia Casi da 20 anni al lavoro in Francia dove sul tema dell'edilizia popolare sono decisamente più avanti rispetto all'Italia. Architetto, si guarda l'Europa in questo caso con il suo intervento alla Francia, perché mi verrebbe da dire fanno meglio di noi? Allora, se fanno meglio, diciamo che fanno sicuramente molto di più. Il parco di case popolari in Francia è molto più importante rispetto a quell'Italia e ci sono delle concentrazioni in alcuni quartieri che meritano un'attenzione particolare. Io da 26 anni più o meno lavoro su tutto ciò che è riconquista di questi territori che sono spesso abbandonati dal punto di vista anche dello Stato, sociali, ma soprattutto per ridare dignità agli abitanti, per ridonare una fierezza di abitare in un quartiere, quindi trasformare in quanto architetto urbanista il passo che propongo io è quello di trasformare l'immagine di questi quartieri, proprio per dare modo di vederli sotto un'altra ottica e con un accompagnamento poi nelle scuole, nel sociale, che non può eludere nella trasformazione di un quartiere. Quali sono gli ostacoli però in Italia? Allora, in Italia diciamo che l'ostacolo potrebbero essere sormontati senza nessun problema, secondo me, perché ci sono dei piani europei anche a livello di finanziamento. Penso che ci voglia un po' di cultura anche della trasformazione. Siamo abituati noi, siamo bravissimi in Italia, a occuparci delle cose antiche, del patrimonio che abbiamo, molto meno di preoccuparci del divenire del patrimonio attuale costruito da noi. Quindi secondo me è lì che dovremmo riuscire a intervenire.